a mercoledì sedici ottobre buongiorno Friuli e bentrovati come ogni mattina in diretta in nostra compagnia per la rassegna stampa prima di andare sui quotidiani di oggi però come sempre uno sguardo anche al meteo uno sguardo al nostro Friuli Venezia Giulia che si sta risvegliando vediamo queste immagini che ci arrivano dalla nostra montagna ancora immersa nelle luci eh della notte le temperature qui siamo sul monte Lussari dove in questo momento il termometro segna sei gradi dodici gradi a Tarvisio quattordici gradi e tre decimi a Tolmezzo sei gradi e mezzo sul monte Zoncolan e poi scendendo in pianura vediamo quattordici gradi e mezzo a Udine quattordici gradi e nove decimi a Pordenone sedici gradi e nove a Gorizia andando sulla costa a Trieste il termometro segna sedici gradi e quattro decimi il cielo è un po' nuvoloso come vediamo anche da queste immagini in alcune località piove un po' ma adesso andiamo a vedere come sempre con le nostre previsioni come proseguirà questa giornata di oggi per quanto riguarda il tempo il meteo è offerto da azienda agricola Davide Feresin viticoltori in Friuli località San Quirino Cormons telefono 0481 630032 ben ritrovati alle previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 16 ottobre al mattino cielo coperto con piogge moderate su pianura e costa abbondanti sui monti specie sulle prealpi in giornata miglioramento è di iniziare dalla costa ma sulle zone interne vi saranno ancora piogge sparse anche temporalesche specie sulle prealpi in un contesto di variabilità vediamo assieme le temperature sulla costa le minime saranno ricomprese tra i 16 e 18 gradi le massime le 19 e 22 gradi in pianura le minime saranno ricomprese dai 13 ai 15 gradi le massime le 19 ai 22 gradi a mille metri 10 gradi a 2000 metri 5 gradi grazie per averci seguito al prossimo appuntamento con le previsioni meteo il meteo è stato offerto da azienda agricola davide feresina viticoltori in Friuli località Sanquirino Cormons telefono 0481 63 00 32 la viabilità ora andiamo sul sito infotraffico di autovie venete al momento non ci sono segnalazioni particolari non ci sono code o rallentamenti da segnalare la presenza di nebbia nebbia a banchi tra porcia e conegliano ed ecco qua un'immagine della webcam che si trova all'incrocio della 4 e della 23 nei pressi di palmanova queste le immagini che ci arrivano in tempo reale vediamo il traffico che scorre in uno dei punti critici della viabilità autostradale e allora chiudiamo anche gli aggiornamenti sulla viabilità e apriamo la nostra rassegna stampa apriamo i nostri quotidiani nazionali subito le prime di Corriere della Sera Repubblica e degli altri quotidiani in primo piano c'è la politica un po' su tutte le prime pagine sul Corriere della Sera apertura dedicata alla manovra che è stata approvata nella notte dal consiglio dei ministri manovra al via divisi sul fisco riunione nella notte per mandare a Bruxelles il piano dei conti pubblici ed esaminare il decreto sulle imposte Conte scrive a Gualtieri lotta coraggiosa a chi non paga le tasse o io ci metto la faccia queste le parole del eh premier tra le misure previste dalla eh manovra vediamo le detrazioni eh fiscali le detrazioni per eh l'idraulico e poi quota cento che rimane invariata la lotteria il concorso eh per chi paga utilizzando eh la carta di credito o il banco mat e poi vediamo mini aumento fino a eh duemila eh euro eh per quanto ehm riguarda appunto le eh pensioni le mini rivalutazioni delle eh pensioni andiamo a cento pagina adesso dove vediamo una foto di Franco Battiato che eh ha pubblicato un inedito si chiama Torneremo ancora fu registrato due anni fa Battiato e il male misterioso ecco la sua ultima eh canzone esce venerdì eh l'ultimo singolo di eh Battiato che vediamo in questa eh foto visibilmente eh provato eh e vediamo anche il quotidiano che dice resta il mistero sulla sua eh malattia. Di spalla gli esteri andiamo in Turchia Putin interviene per frenare l'avanzata eh turca in eh Siria. Chiudiamo il Corriere e andiamo adesso su Repubblica. Repubblica in apertura come si uccide una fabbrica in riferimento della eh alla chiusura di Whirlpool a Napoli. Le garanzie del del governo non convincono gli eh americani dal primo novembre a casa più di mille lavoratori ieri hanno manifestato lungo le vie della città e poi vediamo anche su Repubblica la manovra si potrà scaricare la fattura dell'idraulico scontro con Renzi sul tetto dei mille euro per i eh contanti. E poi a centro pagina vediamo anche qui in ehm Turchia ecco le armi italiane per la guerra sporca di Erdogan. Vediamo una foto dell'elicottero da compatimento turco costruito su licenza della eh Leonardo. E poi di spalla per quanto riguarda la cronaca un naufragio di migranti eh nel Mediterraneo madre e figlia abbracciati sulla barca della eh strage a eh Lampedusa. Chiudiamo Repubblica e andiamo a vedere adesso la stampa una manovra che sfida gli evasori. Conte teme le lobbying in aula e scrive a Gualtieri i politici hanno paura di giocare questa eh partita e poi vediamo nell'occhiello il Bancomat diventa universale tetto di mille euro per il contante no al carcere per chi eh truffa il fisco. Queste alcune novità appunto previste dalla eh manovra. E poi a centro pagina sulla stampa vediamo una foto di Matteo Renzi e Matteo Salvini che si sono eh sfidati ieri sera nel salotto di Vespa i due Matteo da Vespa scintille in tv e flirt dietro le quinte titola la eh stampa. Andiamo a vedere anche la prima pagina eh di Libero che apre proprio con questa notizia botte da orbi tra i due Matteo scontro in tv Salvini Renzi il Fiorentino dice sono il nuovo Macchiavelli ho fatto un'operazione di Palazzo il leghista un italiano su tre e con me lasciateci votare o torna l'invasione e vediamo poi la foto di Matteo Renzi Matteo Salvini e eh Vespa e vediamo anche il titolo sulla manovra di bilancio il salasso viene di notte e le tasche sono rotte titola Libero la manovra della sinistra è soltanto un tentativo di spremere ancora i eh contribuenti. Chiudiamo Libero e andiamo sul giornale schiaffo ai pensionati titola il giornale che parla di una manovra da incubo il governo conferma per ora quota cento ma il ricalcolo è eh umiliante 50 centesimi al mese stangata su plastica e giochi una beffa il taglio del cuneo eh fiscale e poi il limite ai pagamenti in contanti che ritorna a mille euro i contanti sono il diavolo scrive il giornale una beffa eh torna il limite a eh mille euro e anche qui vediamo il confronto a eh porta a porta e eh il giornale scrive finta rissa centrista fra i due Matteo Salvini e Renzi lite farsa in televisione per cercare i voti dei eh moderati e poi vediamo anche qui di spalla strage del mare a Lampedusa dodici vittime mamma e bimbo morti eh abbracciati sono stati trovati eh sotto eh l'acqua in mare. Chiudiamo anche il giornale andiamo a vedere adesso la prima pagina del fatto quotidiano che titola chi vuole manette e chi eh carezze in riferimento alle eh novità previste nella manovra per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale per conte la soglia dei contanti deve scendere a mille euro a Renzi va bene a tremila cinque stelle partito democratico divisi sul eh carcere per gli evasori fiscali. Andiamo adesso anche sulla prima del manifesto che invece apre con quanto sta accadendo in Siria. Il titolo è la linea russa perché Mosca schiera nel Rojava truppe di interposizione tra l'esercito di eh Damasco e i i turchi e i combattenti kurdi abbandonati da Trump. Trecentomila civili in fuga, centinaia le vittime Erdogan sul Wall Street Journal dice sosteneteci o prendetevi i eh profughi e poi vediamo anche sul manifesto Whirlpool scappa subito da Napoli, il governo spiazzato, la protesta degli operai che hanno occupato l'autostrada ieri dopo la decisione della nuova proprietà dell'azienda di chiudere lo stabilimento di eh Napoli. Andiamo anche sulla prima pagina del eh sole ventiquattro ore vediamo anche qui il titolo di apertura sulla manovra, manovra sul filo degli incassi duemila e venti scrive il eh sole ventiquattro ore lungo confronto eh ieri in consiglio dei ministri per varare appunto questa eh manovra clausole IVA sterilizzate bloccati gli aumenti per eh ventitré miliardi eh di euro e poi c'è anche il rinnovo dei contratti eh pubblici inserito in eh manovra. Chiudiamo anche eh questa pagina e andiamo a vedere adesso la prima della gazzetta dello sport per dare un occhiata anche a un quotidiano sportivo nazionale prima di passare sui locali ecco qua la prima della gazzetta che apre con la vittoria dell'Italia ieri sera contro il Liechtenstein per gara valida per le qualificazioni a euro duemila e venti Italia già qualificata come sappiamo il titolo rullo azzurro Mancini e Guagliapozzo doppietta di Belotti l'Italia ha battuto il Liechtenstein per cinque a zero è la nona vittoria di fila per l'Italia del Mancio il gruppo sente la maglia in gol anche Bernardeschi e Romagnoli e El Sharawi poi approfondiremo ovviamente questa notizia più in là nel corso della nostra rassegna stampa perché adesso è il momento di spostare la nostra attenzione sui eh quotidiani locali messaggero Veneto piccolo e eh gazzettino andiamo subito con le aperture le aperture del messaggero Veneto fuga dall'emergenza siamo allo estremo 31 dipendenti su 38 chiedono di lasciare la sala operativa dell'emergenza sindacati sul piede di guerra chiamati gli eh ispettori se non è un esodo di massa poco ci manca per gli infermieri in forza la sala operativa regionale dell'emergenza sanitaria l'ora X scatta oggi con la presentazione delle richieste di mobilità 31 su un totale di 38 dipendenti una percentuale imponente che aumenta ancora di più se si tiene conto del fatto che sette di loro sono in malattia una è in congedo per eh maternità le ragioni di un malcontento che si trascina da due anni e mezzo sono state messe nero su bianco dal nursing il sindacato delle professioni infermieristiche con una denuncia che è stata presentata ieri all'ispettorato territoriale del lavoro di eh Udini alla direzione generale dell'azienda regionale di coordinamento per la salute ed erano state già rappresentate in una missiva inviata al commissario straordinario Zavattaro questa l'apertura del messaggero veneto andiamo a vedere adesso anche la prima del eh gazzettino il gazzettino del eh Friuli andiamo sul eh dorso del Friuli e vediamo a centro pagina il processo per il crack Copca salvata la regione scrive il gazzettino rigettata la responsabilità civile dell'ente che a questo punto resta fuori dal fallimento della eh cooperativa questo quanto deciso eh ieri in tribunale dal nuovo collegio presieduto dal giudice Paolo eh Milocco nel respingere l'istanza la Corte ha richiamato brevemente le motivazioni con cui già il GUP in udienza preliminare aveva rigettato la stessa richiesta delle parti eh civili il collegio ha respinto anche un'altra questione preliminare avanzata dalla difesa di uno degli imputati sulla sua incapacità di stare eh in giudizio è stato quindi dichiarato aperto il dibattimento e le parti hanno avanzato le proprie richieste di prove il processo è stato aggiornato al ventinove eh novembre andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del piccolo il piccolo di eh Trieste così diamo un'occhiata a tutte le aperture c'è la cerimonia ehm il il funerale dei due agenti uccisi in primo piano ecco il titolo lacrime e applausi Trieste abbraccia Matteo e Pierluigi i funerali alle undici e trenta migliaia le persone in visita alla camera ardente per rendere omaggio ai due poliziotti morti nella sparatoria oggi le eh esequie nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo a eh Trieste eviteremo aggiornati anche eh su questo eh avvenimento nei nostri Tg con collegamenti in diretta da eh Trieste. Rimanendo sulla pagina del piccolo diamo un'occhiata anche altre due eh notizie vediamo commercialista triestina arrestata per evasione frode sulliva per quaranta milioni e poi invece nel eh taglio alto a Monfalcone la consegna della Sky Princess capolavoro di eh innovazioni ieri la cerimonia per la consegna della eh nave all'armatore nave appena ultimata nei cantieri di eh Pansano. Chiudiamo il piccolo di eh Trieste e riprendiamo in mano adesso eh gli altri quotidiani locali per dare un'occhiata anche alle altre eh notizie. Andiamo eh sulla pagina sulle pagine del eh gazzettino e andiamo a vedere gli altri titoli il gazzettino del Friuli eccolo qua abbiamo visto l'apertura diamo eh un'occhiata adesso anche agli altri titoli nel taglio alto un altro eh processo quello a carico dell'assistente sanitaria Emanuela eh Petrillo accusata di non aver effettuato le vaccinazioni ai bimbi eh finti vaccini le famiglie ammesse al eh processo sono state ammesse le costituzioni di parte civile di tutte le famiglie che avevano presentato istanza di partecipare al processo a carico eh dell'assistente eh sanitaria lo ha deciso appunto il tribunale di Udine ieri durante eh l'udienza del processo eh durante il quale sono state affrontate le cosiddette eh questioni eh preliminari ancora sempre sulla prima del gazzettino entra in giardino e eh porta via una eh motosega e successo eh nei giorni scorsi a eh Pordenone e poi eh vediamo eh di spalla abbattimento dei cinghiali il primo eh sì gli ieri in quarta commissione in consiglio regionale il primo passaggio della proposta di legge nazionale ehm presentata da Mara Piccin e Giuseppe Nicoli di eh Forza Italia per gestire il controllo degli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari eh previsti attualmente dalla eh normativa. Ancora eh rimanendo di spalla vediamo a D'Ampezzo la fibra ottica ha eh portato il eh futuro eh ultimati a D'Ampezzo il primo comune della Carnia ai lavori per eh portare l'internet veloce la cosiddetta banda eh larga. A Udine invece eh la pista ciclabile di Viazza non scompare Udine eh il comune ha eh deciso eh di eh eliminare la pista ciclabile troppo pericolosa. Ecco qua il titolo e poi anche qui l'articolo nelle pagine interne. La questione migranti rotta balcanica ora il rischio è eh aumentato la rotta balcanica che porta profumi in Italia avendo come primo approdo il Friuli Venezia Giulia non si è mai prosciugata ma ora l'allarme torna ai massimi livelli per i ripetuti ammonimenti della Turchia che anche ieri ha minacciato di lasciar defluire verso l'Europa tre virgola sei milioni di profughi che tiene in eh casa. Nel taglio basso vediamo un'anticipazione degli articoli eh che poi troveremo nelle pagine sportive per quanto riguarda l'udinese c'è il rinnovo del contratto di De Paul ecco qua il titolo eh Rodrigo ha rinnovato il contratto fino a giugno duemilaventiquattro intanto si attende il risponso sulla richiesta di ehm di revoca della squalifica a eh Tudor ehm ieri la FIGC ha esaminato il ricorso eh contro ehm la revoca dello stop a Mazzarri che sarà regolarmente in panchina domenica nella gara tra Udinese e eh Torino. Rimaniamo nel taglio basso del gazzettino benzina agevolata calano i consumi della verde avanza il eh gasolio questi gli ultimi dati sugli sconti sul sull'utilizzo della benzina agevolata in eh in regione andiamo ritorniamo sulla prima pagina del gazzettino del Friuli eccola qua nel taglio alto per quanto riguarda la sanità saranno tre esperti a decidere le nomine di tutti i eh direttori generali delle aziende sanitarie lo ha deciso la eh giunta e poi eh nelle pagine dedicate alla cultura il ricordo dell'amicizia tra Novella Cantarutti e eh Pasolini e poi eh arriva in sala domani sera la prima top model italiana Benedetta Barzini un documentario su eh di lei. Chiudiamo il gazzettino e ritorniamo adesso sulle pagine del eh messaggero Veneto il messaggero Veneto di eh Udine abbiamo già visto anche qui la prima pagina l'apertura dedicata alla sanità c'è un'altra notizia in primo piano sul messaggero Veneto di Udine ovvero eh la bocciatura del ricorso contro il porta a porta si può partire partire ora ed è proprio questa la notizia che apre le pagine locali del messaggero Veneto di Udine eccola qua porta a porta il tar respinge il ricorso finalmente possiamo cominciare Fontanini esulta messa la parola fine a un attacco ideologico e pretestuoso il servizio partirà dai rizzi i primi di dicembre nessuna retromarcia dunque sul porta a porta nessun blocco al nuovo metodo di gestione rifiuti il tar ha eh dichiarato inammissibile il ricorso presentato da undici cittadini riunitisi nel comitato spontaneo Udine pulita no porta a porta contro il comune di Udine e la NET con cui si chiedeva l'annullamento della delibera di giunta approvata lo scorso sei maggio che dava l'ok all'attivazione del nuovo servizio ora dunque comune e NET sono pronti a partire la data di avvio è prevista per i primi di dicembre nel quartiere dei eh Rizzi e poi qui vediamo tutte l'ipotesi di eh crono eh programma per eh l'avvio appunto della raccolta porta a porta in tutte le eh circoscrizioni come detto si inizierà con la circoscrizione due Rizzi, San Domenico, Cormor, San Rocco e poi le circoscrizioni sei, cinque e quattro e via via tutte le altre entro giugno duemila e venti la eh raccolta questo metodo di raccolta differenziata dei rifiuti dovrebbe essere esteso a tutta la eh città e vediamo anche le parole del eh comitato che aveva avanzato questo ricorso al TAR non hanno perso solo i ricorrenti ma tutti i eh cittadini la nostra iniziativa bloccata solo per cavilli processuali dicono intanto si segnalano altri casi di rifiuti abbandonati in eh città e in piazzale d'annunzio sono stati avvistati dei topi scatta la segnalazione al eh comune. Torniamo in prima pagina e andiamo a dare un'occhiata anche alle altre notizie sempre a Udine vediamo l'intitolazione di nuove aree di nuove vie della città un'area verde sarà eh dedicata al poeta a cappello una rotonda invece per eh Zamberletti ancora sempre eh di spalla vediamo il eh il padre del motociclista ucciso nello scontro eh di qualche giorno fa eh a eh Muzzana dice andrò eh in procura eh non dice ancora l'uomo mio figlio non correva vuole vederci chiaro sull'incidente costato la vita al eh figlio e poi anche qui vediamo per la giudiziaria richiesta respinta la regione non paga per gli errori di eh Copca e ancora a schianto frontale un'anziana resta gravemente eh ferita è successo a eh Cervignano. Andiamo in montagna adesso con altri due titoli internet veloce in montagna al via i lavori in cento dieci eh comuni si comincia da eh Ampezzo e ancora a Sappada eh scoppia la grana degli impianti di risalita. Il passaggio di proprietà degli impianti di risalita di Sappada nelle mani di Promo Turismo FVG resta a casa a quasi due anni dal ritorno del comune in Friuli a un mese e mezzo dall'apertura della stagione invernale ancora nel eh limbo il nodo è il eh prezzo che la regione appunto deve pagare per eh acquisire la gestione di questi impianti degli impianti di ehm risalita. Ancora sempre sulla prima del messaggero Veneto eh di Udine nel taglio basso un'altra notizia di giudiziaria il giudice al nomade di quarantotto anni dice impegnati a eh trovare eh lavoro questa queste le parole del eh giudice e poi andiamo adesso sulle pagine del eh messaggero Veneto di eh Pordenone per dare un' occhiata anche alle notizie che ci arrivano dalla destra eh tagliamento ecco qua vediamo che l'apertura è la stessa quindi sulla fuga dall'emergenza centro pagine invece vediamo eh una storia la storia di questo eh allevatore caso quote latte ricompra l'azienda grazie agli eh amici e e allora andiamo nelle pagine interne eh e andiamo a vedere proprio i particolari di questa eh storia eccola qua quote latte Paoletti dalla protesta alla festa il cospa gli ricompra all'asta casa e azienda compleanno speciale per l'agricoltore arrivato con i trattori a Palazzo di Giustizia la svolta dopo un confronto col presidente del eh tribunale e qui c'è appunto il racconto di tutta eh la storia andiamo a vedere anche la notizia di apertura eh delle pagine pordenonesi del messaggero Veneto eccola qua domani scattano le limitazioni via i lavori all'Oberdan eh meno duecento quaranta posti caccia al parcheggio tra i eh cantieri garantiti solo gli stalli per i trecentodieci abbonati aree di sosta diminuite anche in largo San Giorgio e eh nelle vie De Paoli e eh Mazzini ecco qua il titolo dopo il Vallona tocca al multipiano di via Oberdan da domani meteo permettendo cominceranno i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria per impermeabilizzare la eh struttura. Durante il periodo dei lavori almeno tre settimane salvo piogge e imprevisti il multipiano potrà essere utilizzato esclusivamente dai trecentodieci abbonati. I restanti duecento quaranta posti auto che sono sostanzialmente quelli del lato Don Bosco saranno temporaneamente interdetti per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza per utenti e eh operai. Andiamo velocemente anche nelle pagine sportive per dare un'occhiata solo ai titoli poi riprenderemo gli articoli della seconda parte del nostro buongiorno Friuli ecco qua in primo piano la notizia del prolungamento del contratto per Rodrigo De Paul un nuovo contratto con l'udinese adesso De Paul non ha più scuse a Firenze Tudor aveva confessato ci vuole umiltà Don Rodrigo guadaglierà un milione a stagione fino al duemila e ventiquattro e questa è la notizia del eh giorno sul eh messaggero Veneto vediamo anche eh il punto in casa udinese non soltanto i nazionali ora eh si aspetta anche eh Becao per ultimare la ricomposizione del gruppo che si sta preparando per la prossima gara contro il Torino un gruppo smembrato negli ultimi ehm negli ultimi giorni nell'ultima settimana per gli impegni delle eh nazionali. Questo per quanto riguarda l'udinese diamo un'occhiata anche al titolo sul Pordenone che eh nel prossimo turno affronterà la Juve Stabia Tesser studia la Juve Stabia può può usare l'arma Mazzocco una squalifica piccoli acciacchi e scelte tecniche finora l'hanno tenuto ai margini ora il Pordenone fa la conta degli infortunati con Gavazzi trequartista c'è spazio. Con questa pagina noi chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa adesso come sempre il momento di cedere la linea alla regia per tutti gli approfondimenti noi ci rivediamo alle otto puntuali per riprendere in mano i quotidiani di oggi per gli aggiornamenti su meteo viabilità e tutte le ultime news di queste prime ore del giorno ci rivediamo alle otto a più tardi grazie a tutti grazie a tutti